Lo champagne, Tsekov, 1887. Nell'anno dal quale comincia il mio racconto, prestavo servizio come capo di una stazioncina delle nostre ferrovie sud-occidentali. Se la mia vita nella stazioncina fosse allegra o noiosa, lo potete vedere dal fatto che per venti verste all'intorno non c'era un abitato umano, non una donna, non un'osteria discreta. E io a quel tempo ero giovane, vigoroso, ardente, scervellato e sciocco. Unica distrazione potevano essere i finestrini dei treni passeggeri e la sconcia vodka alla quale i giudei mischiavano del narcotico. Capitava che al finestrino di una carrozza balenasse una testina di donna, e io stavo lì come una statua, senza più respirare, guardando fino a che il treno non fosse diventato un punto appena visibile, oppure tracannavo di quella disgustosa vodka quanta ne entrava in corpo, diventavo come un satanasso e non sentivo più come fuggivano le lunghe ore e giornate. Su me, originario del settentrione, la steppa agiva come la vista di un cimitero tartaro abbandonato. D'estate, con la sua solenne quiete, quel monotono stridio di grilli, quella diafana luce lunare alla quale non c'era verso di sottrarsi, mi infondeva un'accorata malinconia, ed inverno il candore irreprensibile della steppa, a sua fredda lontananza, le lunghe notti e gli urli dei lupi mi opprimevano come un penoso incubo. Alla stazioncina vivevano parecchie persone, io con mia moglie, un telegrafista sordo e scrofoloso, più tre guardiani. Il mio aiutante, un uomo giovane e tisico, andava a curarsi in città dove abitava per interi mesi, lasciando a me i suoi obblighi di servizio, insieme col diritto di fruire del suo stipendio. Bambini non ne avevo, di ospiti non c'era modo alcuno di attirarne, e io stesso potevo andare in visita solo dai miei colleghi della linea, e anche ciò non più di una volta al mese. In generale, una vita arcinoiosa. Ricordo che attendevo insieme con mia moglie l'arrivo di un nuovo anno. Seduti a tavola, masticavamo pigramente e ascoltavamo il monotono ticchettio del telegrafista sordo sul suo apparecchio nella stanza attigua. Avevo già vuotato un cinque bicchierini di vodka con narcotico, e puntellandomi la testa pesante col pugno, pensavo alla mia noia invincibile senza scampo, mentre mia moglie mi stava seduta accanto e non mi toglieva gli occhi dal viso. Mi guardava come poteva guardare solo una donna che non ha nulla al mondo, fuorché un bel marito. Mi amava follemente come una schiava, e non soltanto la mia bellezza amava o la mia anima, ma anche i miei difetti, la mia stizza e la noia, e perfino la mia crudeltà, quando io, nell'eccitazione dell'ubriachezza, non sapendo su chi sfocare la mia stizza, la straziavo coi rimproveri. Nonostante la noia che mi arrodeva, ci preparavamo ad accogliere l'anno nuovo con insolita solennità, e aspettavamo la mezzanotte con una certa impazienza. Il fatto era che avevamo in serbo due bottiglie di champagne, del più genuino, con l'etichetta Vedova Clicquot. Questo tesoro l'avevo guadagnato in una scommessa fatta ancora nell'autunno presso il capo del compartimento, facendo bisboccia in casa sua a un battesimo. Accade a volte che, durante la lezione di matematica, quando perfino l'aria ristagna dalla noia, voli in classe da fuori una farfalla. I ragazzini scrollano la testa e cominciano curiosi a seguire il volo, come se vedessero davanti a sé non una farfalla, ma qualcosa di nuovo, di strano. Esattamente così era di svago per noi un comune champagne, capitato per caso nella nostra noiosa stazioncina. Noi tacevamo, gettando occhiate ora all'orologio, ora alle bottiglie. Quando la lancetta segnava le dodici meno cinque, cominciai lentamente a stappare una bottiglia. Non so se mi avesse indebolito la vodka o se la bottiglia fosse troppo umida, ma ricordo soltanto che, quando il turaccio lo volò con uno scoppio al soffitto, la bottiglia mi scivolò di mano e cadde sul pavimento. Se ne rovesciò non più di un bicchier di vino, perché fece in tempo a riafferrar la bottiglia e a tapparne col dito il collo sibilante. Su, via, anno nuovo, nuova felicità, dissi riempiendo due bicchieri. Bevi. Mia moglie prese il bicchiere e fissò su di me gli occhi spaventati. Il suo volto era impallidito ed esprimeva il terrore. — Hai lasciato cadere la bottiglia? domandò. — Sì, l'ho lasciata cadere. Beh, e che per questo? — È una brutta cosa, disse, posando il bicchiere e facendosi anche più pallida. È un brutto segno. Vuol dire che quest'anno ci accadrà qualcosa di male. — Che donnetta sei! sospirai. Sei una donna intelligente e vaneggi come una vecchia bambinaia. Bevi. Voglia Dio che vaneggi. Ma di sicuro accadrà qualcosa. Vedrai. Vedrai. Ecco. Non portò nemmeno alle labbra il bicchiere e se ne andò in disparte e si fece pensierosa. Io dissi qualche vecchia frase a proposito dei pregiudizi. Bevi metà della bottiglia, feci qualche passo da un angolo all'altro e uscì. Fuori regnava in tutta la sua fredda, selvaggia bellezza una silenziosa gelida notte. La luna e accanto ad essa, due bianche nuvolette lanuginose, stavano sospese nell'alto, immobili come fossero appiccicate, proprio sopra la stazioncina, e pareva che aspettassero qualcosa. Ne emanava una lieve luce di afana, e teneramente, come temesse di offendere il pudore, sfiorava la terra candida, illuminando ogni cosa. I cumuli di neve, la scarpata... Tutto era silenzio. Andavo lungo la scarpata. Stupida, pensavo, guardando il cielo cosparso di vivida e stelle. Anche se si ammette che i segni a volte dicono il vero, che cosa ci può accadere di brutto? Le disgrazie che abbiamo già provato e quelle presenti sono così grandi, che è difficile immaginare di peggio. Quale altro male si può cagionare a un pesce che già è stato acchiappato, fritto e servito in tavola sotto salsa? Un pioppo alto, coperto di brina, si mostrò nella foschia turchinaccia come un gigante, vestito d'un lenzuolo funebre. Mi guardò austero e afflitto, come se al pari di me comprendesse la propria solitudine. Lo guardai a lungo. La mia giovinezza è andata perduta per nulla. Come un inutile mozzicone di sigaro, continuai a pensare. I miei genitori morirono quando ero ancora bambino. Dal ginnasio mi scacciarono. Nacqui in una famiglia nobile, ma non ricevetti né educazione né istruzione. E di sapere, non ne ho più di un lubrificatore qualsiasi. Non ho né un rifugio, né congiunti, né amici, né un lavoro che io ami. Non sono capace a nulla, e nel rigoglio delle mie forze son servito soltanto a tappare il posto vacante di un capo d'una stazioncina. Forché sfortuna e guai, null'altro ho conosciuto nella vita. Che cosa potrebbe ancora accadere di brutto? In lontananza comparvero dei lumi rossi. Mi veniva incontro un treno. La steppa addormentata ne ascoltava il fragore. I miei pensieri erano così amari che mi pareva di pensarli ad alta voce, e che il gemito dei telegrafi e il rumore del treno li trasmettessero. Che può dunque ancora accadere di brutto? La perdita di mia moglie? Mi domandavo. Anche questo non mi fa paura. Alla propria coscienza non si sfugge. Non voglio bene a mia moglie. L'ho sposata che ero ancora un ragazzetto. Adesso son giovane, vigoroso, mentre lei è smagrita, invecchiata, imbecillita, piena zeppa di pregiudizi dalla testa ai piedi. Che c'è di bello nel suo amore stucchevole, nel suo petto infossato, nel suo sguardo senza vivacità? Io la sopporto, ma non le voglio bene. Che può dunque accadere? La mia giovinezza si perde, come si dice, per meno di una presa di tabacco. Le donne balennano davanti a me solo ai finestrini delle carrozze, come stelle filanti. L'amore per me non c'è stato e non c'è. Perisce la mia virilità, il mio ardire, la mia cordialità. Tutto perisce come ciarpame, e le mie ricchezze qui, nella steppa, non valgono un soldo bucato. Il treno mi volò innanzi con fragore. E' indifferente, mi rischierò un poco, coi suoi finestrini rossi. Lo vidi arrestarsi presso i rumi verdi della stazioncina. So stare un minuto e filare oltre. Percorse un paio di verste. Tornai indietro. I pensieri tristi non mi avevano lasciato. Per quanta amarezza sentissi, ricordo che parevo sforzarmi perché i miei pensieri fossero più tristi e più bui. Sapete, per gli uomini di limitata intelligenza e di molto amor proprio, ci sono dei momenti in cui la coscienza di essere infelici procura loro un certo godimento. Ed essi ci vettono perfino di fronte a se stessi con le loro sofferenze. Molto c'era di vero nei miei pensieri, ma anche molto di insulso, di vanitoso, e anche qualcosa di bambinescamente provocante nella mia domanda. Che può, dunque, accadere di brutto? Sì, che cosa mai accadrà? Mi domandavo tornando a casa. Mi pare di aver provato tutto. Sono stato malato. E ho perduto denari. E ogni giorno ricevevo rabbuffi dai superiori. E patisco la fame. E un lupo arrabbiato è entrato nel recinto della stazione. Che altro? Mi hanno offeso, umiliato. E anch'io ho fatto dei torti in vita mia. Ecco, forse delinquente non sono stato mai, ma di un delitto a quanto pare sono incapace. Non temo però i tribunali. Le due nuvolette già si erano allontanate dalla luna. E ne stavano un po' discosto, con un aspetto come se stessero bisbigliandosi qualcosa che la luna non doveva sapere. Un lieve venticello corse per la steppa, portando il sordo rumore del treno partito. Sulla soglia di casa mi accolse mia moglie. I suoi occhi ridevano giulivi. E tutto il suo volto ispirava contentezza. C'è una novità da noi, sussurrò. Va presto in camera e indossa la giubba nuova. Abbiamo un ospite. Che ospite! E' arrivata adesso col treno la zia Natalia Petrovna. Che Natalia Petrovna! La moglie di mio zio Semion Fiodoric. Tu non la conosci. E' molto buona e bella. Probabilmente mi accigliai perché mia moglie fece un viso serio. E si mise a bisbigliare in fretta. Certo è strano che sia venuta, ma tu, Nicolai, non arrabbiarti e sii indulgente. E' una disgraziata. Lo zio Semion Fiodoric è in realtà un despota, un cattivo. Con lui è difficile andare d'accordo. Lei dice che passerà da noi solo tre giorni, finché non avrà ricevuto una lettera da suo fratello. Mia moglie mi sussurrò ancora, a lungo non so che sciocchezze, a proposito dello zio despota, della debolezza umana in genere e di quella delle giovani mogli in specie. Del nostro dovere di dare asilo a tutti, anche ai grandi peccatori, eccetera. Senza capir proprio nulla, indossai la giubba nuova e andai a far conoscenza con la zia. A tavola era seduta una donnina dai grandi occhi neri. La mia tavola, le pareti grigi, il rosso divano, mi pareva che tutto, fino al minimo granello di polvere, fosse ringiovanito e divenuto gioioso, in presenza di quella creatura nuova, giovane, bella e peccatrice, che emanava un certo complicato profumo. E che l'ospite fosse peccatrice. Lo capì dal sorriso, dal profumo, dal modo speciale di guardare e di giocare con le ciglia, dal tono col quale parlava mia moglie, una donna perbene. Non aveva bisogno di raccontarmi che era scappata via dal marito, che suo marito era vecchio e despota, che lei era buona e gaia. Capì tutto fin dal primo sguardo, ed è ben difficile che ci siano ancora in Europa uomini che non sappiano distinguere a un primo sguardo una donna di un certo temperamento. — Io non sapevo di avere un nipotino così grosso, disse la zia, apporgendomi la mano e sorridendo. — E io non sapevo di avere una zia così graziosa, disse io. Cominciata a capo la cena, il turacciolo volò via con uno scoppio dalla seconda bottiglia, e la zia beve d'un fiato mezzo bicchiere, e quando mia moglie andò non so dove per un momentino, la zia non fece più cerimonie e vuotò tutto il bicchiere. Io diventai ebbro, per il vino e per la presenza di quella donna. Ricordate la romanza? Occhi neri appassionati, occhi brucianti e belli, quanto vi amo, quanto vi temo. Non ricordo quel che fu dopo. Chi gli garbi sapere come comincia l'amore, legga romanzi e lunghe novelle, ma io dirò solo in breve e con le parole di quella stessa sciocca romanza. Io dunque vi vidi, in un'ora fatale. Tutto andò al diavolo, e sotto sopra. Mi rammento di un terribile, furioso turbine che mi fece roteare come una piuma, mi fece roteare a lungo, e cancellò dalla faccia della terra e mia moglie e la zia stessa, e la mia forza. Dalla stazioncina della steppa, come vedete, mi ha sbalestrato in questa via buia. Adesso dite, che può ancora accadermi di brutto? Adesso dite, che può ancora accadermi di brutto? Adesso dite, che può ancora accadermi di brutto? Adesso dite, che può ancora accadermi di brutto?